eccoci i ragazzi di vede beve 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 e la mia basa fa tutto svolta la notte mi such as come regolele pego limbe colin vivo Begolino TV il logo vincente tutti stanno imparando, come si fa a fermare del logo? non lo so se è tu il tablet, spero che lo fermo qua, stamattina indosso delle fantastiche cuffie che è urbato dalla scrivania di Barbara Pinotti, guardate come si concia la Pinotti quando viene in radio ma io l'ho vista conciata peggio, meglio che non descriva come l'ho vista la Pinotti, abbiamo degli argomenti importantissimi oggi per gli amici di Begolino TV, voi che non pagate canone, nessun tipo di abbonamento anche perché nessuno pagherebbe io faccio una pubblicità spudorata, nel senso che Clarri, sai che io tratto sempre malissimo Clarissa, sai che la chiamo la Tina Cipollari de Noire ma no, è l'erede di Tina Cipollari ecco, e così mi ha regalato perché io stia zitto una bottiglia di Prosecco interessante, quelle mie non devi berle tu, queste cose le posso buttare via no, da qua che sono della barba, dicevo, stamattina abbiamo parlato di argomenti importantissimi tra i quali purtroppo, purtroppo ci dispiace la morte di Don Antonio Polese chi era, direte voi, era il boss delle cerimonie, programma culto su Real Time TV ci chiedono una base musicale ah, subito, vai, Tito Puente, Run Can Can, volume, volume, vai, vai, la rumba, ole e il begolino tv, balla ma che due dolci ma siamo un po' la base musicale, la teniamo comunque in sottofondo bellice, bellice, la rumba patrimonio dell'umanità bravo la rumba cubana questa era una delle notizie di stamattina poi, il boss delle cerimonie se ne è andato stamattina è arrivato l'erede naturale che è Gigino Gigino Pazzariello chi ci ha dato però i numeri quelli assolutamente da non giocare dovevi giocare quello prima e quello dopo ricordiamo che abbiamo cambiato lo spacciatore dei numeri prima era Galloppo il mago dell'otto adesso è Nannina l'indovina sono cose importanti cose importanti, i numeri quaterna per la morte di Antonio Polese 13 Antonio, 47 il morto, 70 le cerimonie, 21 il boss ok giocate la quaterna poi ricordiamo ricordiamo lo numero che non esce perché non c'è più la balletta dentro il sacchetto ecco spiegala questa cosa eh niente no, perché questi tirano fuori i numeri dell'otto dal sacchettino, quello che si usa anche per la tombola ti ricordi? è uguale è la stessa cosa e praticamente hanno perso i 53 e per quello che non esce va bene ragazzi noi abbiamo detto tutto no ah no non abbiamo detto tutto ah hai ragione hai ragione sei venuto a trovare il nostro amico Gregolino saluta ciao amico ciao ciao ecco guardate che bello questo è uno dei calendari più belli in assoluto l'associazione Onlus il nome è un po' strano I C W I I è una di quelle famose malattie rare di quell'associazione italiana sulla sindrome di Wolf Hirschrom voi informatevi visitate su internet questa cosa e troverete le informazioni se ce la fate comprate il calendario eh ok? va un nostro amico fantastico e sarà anche un vostro amico bene ciao ragazzi Gregolino TV vi saluta vi dà appuntamento aspetta che do il suo di nuovo la rumba chiudiamo rumbando olè papà papà